Siamo arrivati al 30 giugno, buongiorno e benvenuti a tutti cari telespettatori di FanoTV, siamo arrivati in fondo a questo mese di giugno così caldo, così intenso, che è passato, dandoci non pochi problemi, lo vedremo tra poco soprattutto dal punto di vista della siccità perché la situazione si sta facendo complicata, ma di questo parleremo nel corso della rassegna stampa che sta per cominciare, ma che di solito, come facciamo di solito, inizia con il santo del giorno. Oggi in realtà la Chiesa Cattolica ricorda i santi protomartiri della Chiesa di Roma che accusati dell'incendio della città appunto di Roma furono per ordine dell'imperatore Nerone crudelmente uccisi con supplizi diversi. Tanto per darvi un'idea, visto che dei martiri ci si ricorda poco, ma è grazie a loro che siamo arrivati qui, la Chiesa è arrivata sin qui, pensate che alcuni di questi martiri primi furono esposti ai cani coperti da pelli di animali e ne vennero dilaniati, altri invece furono crocifissi e altri ancora dati al rogo, cioè furono bruciati i vivi perché, venuta meno la luce del giorno, quindi si era fatta sera, dovevano servire come lampade notturne, quindi gli davano fuoco per fare luce. Ecco, tutti questi erano ovviamente discepoli degli apostoli e primizie dei martiri che la Chiesa di Roma presentò appunto al Signore. Questo per dirvi un po' anche dei martiri, che è importante ricordarli insomma. Allora, il sole è sorto alle 5.28, tramonterà alle 20.55. Volevo farvi vedere un'altra cosa, ma non sono riuscito a collegarmi, per cui vado direttamente a collegarmi con Nicola, che si trova, beato lui, sulla spiaggia. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno, non sei sulla spiaggia, dove sei? Sul molo, da che parte stai? Sono sul molo del Lido. Ecco, sul molo del Lido, quindi ci fai vedere uno spaccato, un totale, come si dice, un totalone della tua spiaggia. Sì, questo è il lungomare dell'Arzilla, fino ad arrivare all'animalido. Sì, bello. L'Arzilla e tutto il Lido abbiamo di qua. Ecco, quindi c'è una bella secca anche stamattina a Bassa Marea, con persone che stanno già passeggiando. Allora, ci puoi dire, in realtà, il motivo per cui ogni giorno facciamo i collegamenti con i bagnini, ma spesso ce lo dimentichiamo, e questa è colpa mia, mea culpa, mia maxima colpa, ma noi abbiamo bisogno delle previsioni meteo, ma soprattutto delle previsioni del mare, cioè capire, e questo dare informazioni per chi viene e vuole passare qualche ora in spiaggia, come saranno le condizioni del mare oggi, se ci sarà vento, se sarà in sicurezza. Allora, il mare oggi, basta guardarlo, che è calmo, è una tavola, è una giornata bellissima, non c'è una nuvola, il sole è già scotta, quindi si pronuncia una gran bella giornata. Eh, vedo, vedo, vedo. Allora, intanto, come al solito, anche vedi sicurezza, pulizia, i mezzi sistemano... Siamo sempre, tutta la mattina, noi facciamo la pulizia della spiaggia, della battigia, poi andiamo a pulire tutti gli ombrelloni con i vari retini e le varie macchinette per le spiaggia per cercare di fare il meglio, poi dopo a volte ci riusciamo a volte meno. Ecco, se vai un attimo con l'inquadratura a largo, se mi sposti vai verso, diciamo, la Croazia. Ecco, ecco, basta così, no, togli un attimo il molo, facciamo un ecco, la miscia il sole, il mare e il cielo, guarda, sembra un tutt'uno, guarda che meraviglia. Sì, sì, no, è bellissima la giornata. A parte questa riga all'orizzonte, per il resto è un tutt'uno, benissimo, grazie Nicola per questa immagine che sicuramente farà piacere anche a coloro che invece sono costretti a casa e che quindi non hanno la fortuna che hai tu e tutti coloro che oggi potranno passare qualche ora al mare. Andiamo, ciao domani, adesso andiamo a vedere i giornali. Grazie domani, ciao. Andiamo a vedere i giornali perché la notizia del giorno è sicuramente la morte di Marcello Berloni, Berloni, storico mobiliere, mobiliere visionario, titola il giornale questa mattina, aveva 84 anni e dal boom degli anni 90 la liquidazione dell'azienda, in una lettera Marcello Berloni scrive le sue verità. Poi in apertura il Caterraduno, un'iniziativa di Radio 2, accende l'estate, via alla tre giorni, attese migliaia di persone in città, Pesero oggi si apre in Baia, domani arriva il ministro Giovannini, tra l'altro Pesero che ha tra virgolette scippato a Senigallia questo Caterraduno, per tanti anni si è svolto infatti nella spiaggia di Velluto. Poi caos per un allarme bomba all'Agenzia delle Entrate di Pesero, ma era un pacco libri, sono arrivati comunque gli artificieri, poi la giunta a Terre Roveresche nel Pesarese che paga anzi lo stipendio alla Presidente del Consiglio, un po' di soldi se li sono tolti ognuno dal proprio stipendio, per avere anche la figura del Presidente del Consiglio nel comune di Terre Roveresche. Poi affanno invece una serie di schianti in motocicletta, due di loro, due centauri, sono stati portati a Torrette di Ancona, e poi si riaprono i pozzi di Sant'Anne del Burano, con un largo anticipo diremmo l'annuncio della Regione, vedremo tra poco anche com'è la situazione appunto sul fronte. Siccità, lo sport, basket pesarese, WL, Idea Visconti e proposta per Mazzola. Calcio, vis vicina ad Auccelli, talento della Sassuolo. Invece il Corriere Adriatico in edizione di Pesero titolo Addio al pioniere delle cucine. Scomparso Marcello Berloni, aveva 84 anni, insieme al fratello negli anni 60 affondò lo storico Marchio. Il figlio Roberto dice è stato un lungo periodo di sofferenza, lotta e speranza, il cordoglio di un'intera città. Centropagini invece il robot degli artificieri, ieri all'Agenzia delle Entrate di Pesero, per questo pacco sospetto che però conteneva soltanto libri, e poi sotto invece il Comune recluta i tecnici per i piani dei fondi del PNRR, e poi sempre da Pesero conservatorio, patto con l'ospedale Dorico per curare i musicisti, e da Fano serie di incidenti gravi coinvolti tre motociclisti. E infine la protezione, sempre dalla prima pagina, la protezione civile ordina stop allo spreco di acqua, oggi lettera ai comuni con le linee per le ordinanze. L'assessore della protezione civile Aguzzi dice criticità uniformi su tutto il territorio regionale. E allora adesso le pagine di Pesero con tutti i dettagli particolari di questa triste notizia che riguarda appunto la morte di Marcello Berloni, pioniere del mobile, il figlio Roberto lo hanno ucciso, dice i dispiaceri, aveva 84 anni e per quasi 60 aveva lavorato per la sua azienda. Poi la crisi mondiale e la vendita nel 2014 ai soci di Taiwan. Dal 2013, quando si arrivò alla presentazione del concordato, ha impegnato tutti i suoi averi per ripartire, però purtroppo non c'è riuscito. L'articolo porta la firma di Maurizio Gennari, che inizia così il suo pezzo, c'è amarezza profonda nelle parole del figlio di Marcello Berloni, Roberto, che racconta, non sono riusciti a capire e a stabilire la causa della sua patologia, forse il frutto del dolore e delle amarezze patite in questi ultimi 12 anni. Perché ieri si è spento all'ospedale San Salvatore Marcello Berloni, aveva 84 anni, l'uomo che assieme al fratello Antonio aveva fondato nel 1961 uno dei brand di maggiore successo nel campo delle cucine. Marcello Berloni lascia oltre alla moglie tre figli, Katia, Andrea e Roberto, domani alle 16 in cattedrale i funerali. Questa sera invece alle 18, sempre in Duomo, la preghiera del Santo Rosario. E poi naturalmente anche altri dettagli, altri racconti su questa vita intensa sicuramente, fatta di tanta passione, di momenti felici, ma anche di momenti appunto tristi e soprattutto di ricordi. E allora, per esempio, sempre da questo articolo, qui ci sono gli incontri per esempio con Luciano Pavarotti, Lucio Dalla per un'iniziativa con Guido Lucarelli, Monica Vitti, fino ad arrivare a Valentino Rossi, poi la svolta del gruppo nel 2008 con la crisi profonda, la caduta di alcuni mercati fondamentali per la Berloni e la contemporanea creazione del marchio Berloni Casa, che fu al centro di massicci investimenti, con il mercato però in picchiate. C'è il suo, diremmo, competitor, ma poi in realtà, come racconta anche Walter Scavolini in persona, è semplicemente un amico. L'amico Walter Scavolini che dice «Sono addolorato, mi dispiace tantissimo di Marcello Berloni, perché anche se era più grande di me, siamo cresciuti insieme, abitava a 100 metri da casa mia. E i rapporti con Marcello e Antonio sono stati sempre di grande amicizia, ancora racconta Scavolini, anche sotto il profilo lavorativo, un rapporto che è andato avanti nel tempo, era un po' che non lo sentivo, che non sentivo Marcello, ma sapevo che era malato. Un grande dolore, dice ancora Walter Scavolini, per la sua morte. Fra l'altro, Scavolini e Berloni, alla fine degli anni Ottanta, fecero una spedizione per vedere di acquistare la Salvarani, altro storico marchio di cucine, ma non se ne faceva nulla perché non c'erano le condizioni, ricorda ancora Scavolini. A ricordare la figura dell'imprenditore Marcello Berloni, poi anche altri personaggi della politica e quant'altro. Sempre sulla, invece, pagina del resto del Carlino, la seconda dedicata alla morte di Marcello Berloni, ecco la sua lettera a testamento. Ho dato tutto per salvare l'azienda. L'imprenditore ha ricostruito di suo pugno le vicende che hanno portato alla vendita della società. E prima che la malattia degenerasse, Marcello Berloni aveva scritto questa lunga lettera con la quale ha ripercorso il film della sua vita, le gioie, i dolori. E questa lettera di cui il Carlino pubblica oggi alcuni stralci è un estratto di un racconto lungo 84 anni che sarà il centro di un libro che la famiglia vuole dare prossimamente alle stampe. E inizia così. Sono Marcello Berloni, nato nel 1938 in un paesino dell'entroterra pesarese chiamato Serro Ungarina. All'età dei 12 anni mio padre Ettore decise di trasferirsi con la famiglia a Pesaro, esattamente a Santa Veneranda, dove con l'aiuto di un parente, di mia madre Aldina, ottenne un prestito per acquistare un terreno e costruirci successivamente la sua casa. Stiamo parlando della fine degli anni 50 e la Berloni partì proprio da lì. Scrive Arrivamo con mio fratello Antonio alla costruzione della fabbrica di Montelabate senza però dimenticare le origini perché con il buon andamento degli affari nei mobili facciamo anche acquisizioni di terreni per l'azienda agricola che gestivamo. Alla fine del 1994 avevamo potuto acquistare già 300 ettari di buona terra tutta vicino Pesaro. Ed ecco altri stracci del suo racconto che troverete oggi sul giornale in edicola. Il Corriere Adriatico invece titola Morto Marcello Berloni, il pioniere delle cucine che sognava la famiglia, l'imprenditore del mobile malato da qualche tempo e scomparso da 84 anni, il figlio Roberto, gli avevamo preparato una sorpresa ma non ha fatto in tempo. e anche appunto il Corriere Adriatico ricorda come la sofferenza, la sua sofferenza è stata soprattutto quella di non essere riuscito a salvare l'azienda fondata insieme al fratello nel 1960. Diceva il rammarico più grande lo strappo con mio fratello Antonio. E così ricorda appunto il Corriere. Adesso andiamo invece, cambiamo completamente pagina, andiamo a Macerata. Perché andiamo a Macerata? Perché stamattina il Corriere Adriatico, ma tutti i giornali ovviamente locali, siti internet e quant'altro, riportano la notizia dell'elezione del nuovo rettore della storica centenaria plurisicolare università, prestigiosissima università, di Macerata. E la sorpresa qual è? È che a guidarla da qui ai prossimi anni sarà uno straniero. Chi è questo straniero? Lo vediamo subito con questa fotografia. si chiama John Francis McCarty e ha ottenuto 207 voti contro, ha battuto, diciamo, Francesca Spigarelli che invece ne ha ottenuti 158. Ed è appunto il nuovo rettore e resterà in carica sei anni dal 2022 fino al 2028. Entrerà in carica adesso il primo di novembre con l'inizio del nuovo anno accademico. alta l'affluenza alle urne i votanti sono stati 291 tra docenti, ricercatori e rappresentanti poi studenti rappresentanti degli studenti su 308 aventi diritto e 241 dipendenti del personale tecnico-amministrativo poi collaboratori linguistici su 282 aventi diritto quattro schede bianche soltanto tre schede nulle per il resto insomma diciamo che è stata una grande partecipazione che appunto ha visto uscire vincitore con sorpresa forse ma neanche tanto perché pare che già qualcuno sapesse qualche giorno fa si dice girasse un professore con il conteggio finale 210 beh insomma non c'è andato molto lontano perché alla fine 207 ne ha ottenuti ma lui sapeva già che più o meno ne poteva raccogliere 210 insomma il docente ha vinto ha vinto alla grande sull'esito ha pesato la mancata compattezza di giurisprudenza infatti McCart spero che si lega così ma comunque ha fatto festa nel suo dipartimento che è il dipartimento degli studi umanistici che negli anni ha saputo mantenersi al top con grandi numeri di studenti iscritti e docenti il voto è segreto ma è difficilmente smentibile il fatto che appunto abbia fatto il pieno in questo a studi umanistici e a scienze della formazione però è riuscito anche a prendere diversi voti nella ex roccaforte che è appunto giurisprudenza e qualcuno dice come mai giurisprudenza a giurisprudenza non hanno votato non hanno votato il loro candidato e questo bisognerebbe appunto scoprirlo ma comunque intanto abbiamo detto il neoeletto entrerà in carica dal primo novembre succedendo a Francesco Dornato ieri assente forzatamente per motivi di salute e dunque cambio di guardia al vertice di questa ripeto prestigiosa università ma adesso il problema dell'acqua il problema della siccità se si va avanti di questo passo ovviamente sarà un problema e sarà un problema anche di razionamento cioè probabilmente l'acqua verrà razionata ma intanto andiamo con ordine e guardiamo leggiamo questa pagina del Corriere Adriatico che titola così sulla questione emergenza idrica basta spreco d'acqua per usi non essenziali intanto lo ricordiamo divieto di consumo di acqua per attività appunto non essenziali quale il lavaggio delle auto riempimento di piscine private oppure l'irrigazione di prati e giardini questo naturalmente per chi è costretto a dare acqua con l'uso dell'acqua pubblica chi ha il pozzo privato sono affari suoi le maggiori criticità dice l'assessore titolare delle delega alla protezione civile e alle risorse idriche Stefano Guzzi dice le maggiori criticità si riscontrano nella Scolano perché a seguito del terremoto del 2016 alcune sorgenti hanno deviato i corsi e dunque è diminuita la portata di captazione per questa ragione si dovrà ricorrere ad alcuni pozzi che vengono attivati solo nelle emergenze e la stessa situazione critica si registra anche nel Pesarese per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua potabile in particolare nelle città di Fano e Pesaro questi due comuni spiega ancora Guzzi prelevano dal fiume Metauro che sia dal fiume Metauro che dall'invaso di Tavernele di Colli al Metauro che ad oggi però è a meno del 50% delle sue potenzialità gli altri invasi di Fossombrone e del Furlo sono sotto la soglia critica anche se mantengono una capacità residuale per garantire alcune ancora qualche giorno di approvvigionamento idrico senza passare ai razionamenti dopodiché se non pioverà ma purtroppo non sono previste precipitazioni nei prossimi giorni sarà necessario attingere ai pozzi del Burano e di Sant'Anna come è stato fatto lo scorso anno però attenzione come ricorda anche Aguzzi nel 2021 cioè l'anno scorso quest'ultima spiaggia cioè di andare a prelevare di aprire i pozzi del Burano perché ogni volta che si apre il pozzo del Burano succede il finimondo c'è chi protesta ma perché su e giù insomma l'anno scorso era a luglio inoltrato adesso invece siamo all'inizio di luglio quindi è un problema non sappiamo però esattamente quanta acqua dentro ci sia in questo pozzo del Burano quanto sia autonoma quindi c'è sempre il problema e la paura il terrore che una volta aperto poi si arrivi fino all'ultima goccia però ancora non c'è uno studio non si capisce bene quanta acqua in realtà ci sia sotto può darsi anche che ce ne sia tanta non lo sappiamo finché non lo proviamo comunque fatto sta che oggi si terrà un incontro a Pesaro tra regione provincia e nel Green Power per attivare fin da subito le attività di pulizia degli invasi lungo il Metauro questo è un altro è un altro problema la pulizia degli invasi ma sicuramente io credo l'Italia in questo è come al solito un fanalino di coda rispetto ad altri paesi dove la cultura e la mentalità un po' diversa occorrerà pensare a come raccogliere l'acqua soprattutto durante l'inverno con dei sistemi ma anche per esempio nelle abitazioni private tutta l'acqua che cade sui tetti poi dove va va a finire via invece bisognerebbe raccoglierla e utilizzarla poi quando serve questa è una questione un po' più complessa ma che andrà assolutamente pensata e approfondita per non trovarci ogni anno nella stessa situazione invece andiamo di nuovo a Pesaro perché queste fotografie che pubblica il Corriere Adriatico riguardano vedete questo pacco sospetto inizialmente era sospetto non si sapeva cosa contenesse di conseguenza è scattato l'allarme e poi considerando l'obiettivo cioè l'agenzia delle entrate insomma qualcuno ha chiamato giustamente i carabinieri che poi hanno attivato tutti i protocolli quindi sono arrivati anche gli artificieri con il robottino che vedete in questa immagine qui un braccetto meccanico che ha aperto questi pacchi alla fine si è scoperto che dentro c'erano soltanto dei libri due ore comunque sono state di fibrillazione ieri mattina attorno alla sede di Yamameli a Pesaro con l'arrivo appunto degli artificieri poi sempre restando a Pesaro c'è questa notizia in breve che il questore il questore di Pesaro Michele Todisco dal primo luglio va in pensione quindi al suo posto subentrerà Raffaele Clemente che è attuale vicequestore di Terni dunque avremo un nuovo questore anche il Carlino allarme bomba ma era un pacco di libri mobilitazione all'agenzia dell'entrata evacuato il palazzo poi gli artificieri sciolgono ogni dubbio si trattava di romanzi per un impiegato il mercoledì è il mercoledì nero dei motociclisti siamo sulla pagina di Fano del Corriere gravi tre giovani soccorsi da Icaro Icaro e l'eliambulanza primo schianto a Marotta mezzo tagliato in due a Falcineto molto serie le condizioni di un 32enne poi in via Nazario Sauro conducente di uno scuterone finisce contro un albero senza coinvolgere altre persone dunque queste sono le tre sono i tre incidenti che il Corriere di cui il Corriere parla questa mattina con i particolari e i dettagli poi un defibrillatore anche al Pincio è il terzo disponibile per tutti progetto del Rotary Club strumento salvavita da usare in attesa dell'ambulanza del 118 mentre sulla pagina ancora di Fano però del Carlino schianti in serie paura per due motociclisti entrambi finiscono nelle ambulanze a Torrette il primo è un 35enne si è scontrato contro un albero il secondo un 32enne vittima di un frontale con una panda insomma questi incidenti sono stati registrati in via Nazaro Sauro e all'imbocco della superstrada per Bellocchi poi a San Costanzo invece muore a 59 anni il padre del consigliere Domenico Carboni si è spento ieri Canio Carbone Domenico Carboni si è spento ieri a 59 anni Canio Carbone papà del consigliere provinciale comunale di San Costanzo Domenico a causarne la scomparsa un brutto male contro cui lottava da tempo Canio lascia anche la moglie Giuseppina nella figlia maggiore Rosa Maria andiamo avanti con la nostra segna stampa le altre pagine dalla valle del Metauro Fossombrone incursione al bar Napoli svaliggiate le slot machine colpo da professionisti disattivato il sistema d'allarme conoscevano il locale dunque un bottino ragguardevole di circa 7 mila euro e colpo da professionisti quello messo a segno l'altra notte al bar appunto Napoli di Fossombrone scassinate cinque slot machine più il cambio a monete ad opera di tre ladri nell'esercizio di via Barocci gli inquirenti sono dell'idea che il furto sia stato preparato con tutte le attenzioni ipotesi plausibile se è vero che un sensore del sistema d'allarme è stato disattivato di certo nel corso della giornata precedente con una pecetta adesiva scoperta solo all'apertura del locale ad incursione ormai avvenuta insomma avevano studiato nei minimi dettagli un po' tutti i movimenti da Monbaroccio invece con la buona tavola scienza fede e musica sabato tappa a Palazzo del Monte di Monbaroccio per l'olio dop di Cartoceto amarezza invece per la regione spero che ci ripensino il sindaco Gambini sul mancato sostegno all'arcidiocesi il PD colpa della destra qui si continua a parlare in politica la politica continua a parlare ancora di cose di fatti della Chiesa sapete che c'era questa notizia che poi non so se alla fine dal Vaticano faranno marcio indietro pare di sì pare che insomma in qualche modo si ritorni cioè tutto resti così com'è insomma quindi tanto rumore per nulla però questa cosa è un po' stata strumentalizzata ovviamente la politica lo fa di mestiere e sa benissimo come fare utilizza qualsiasi cosa pur di tirare l'acqua ai propri mulini e in questo caso c'è di mezzo in ballo il vescovo l'arcivescovo che andrà in pensione Giovanni Tanni come abbiamo già detto tante volte e la notizia era che da Roma nessuno non c'era l'idea di rimetterci lì un nuovo vescovo e quindi tutto sarebbe passato sotto la gestione di Pesero quindi l'arcivescovo di Pesero sarebbe stato anche l'arcivescovo di Urbino a Preticello è successo a fine mondo tutti a fare riunioni conferenze consigli comunali addirittura consiglieri regionali che dovevano partire per andare in Vaticano ma ve lo immaginate voi se la conferenza episcopale marchigiana decidesse a un certo punto di mandare il presidente della conferenza episcopale quindi un vescovo da mattarella per dire che tal paese non deve fondersi con un altro paese cioè è così però ripeto questa cosa è stata strumentalizzata e quindi ormai questa è la piega e ce la portiamo fino a che tutto non tornerà alla normalità intanto anche il resto del carlino delusione dalla regione sul caso del vescovo il sindaco Gambini e l'ondè dell'opposizione dice l'assemblea regionale ha perso l'occasione di sostenere l'entroterra e va bene poi da fano invece finalmente il question time cioè le domande che i cittadini possono fare durante il consiglio comunale il cittadino infatti entra in consiglio accolta la proposta del Movimento 5 Stelle per domande dirette alla giunta su temi urgenti chiaramente non su tutto ma sui temi urgenti possono intervenire e questo è già una buona cosa bene andiamo avanti velocemente perché siamo in ritardo da fano il Rotary mette il cuore in cassaforte quattro nuovi defibrillatori in luoghi pubblici della città Caverne dice tutti possono usarlo è facilissimo poi incursione in due locali in via Dante Alighieri arrivano i carabinieri poi sul biodigestore Ase Tabarchi i primi mal di pancia rumors di incontri carbonari cioè di nascosto a San Costanzo intanto l'11 luglio si vota il CDA la Nautica invece va a gonfie vele azienda cerca personale è la Fratelli Canalicchio che assume cinque figure per la nuova sede all'ex zuccherificio di Fano da Senigallia lungomare spunta un'antenna deturpa il paesaggio spostatela in passato era stata sistemata nell'area dell'ex colonia Enel Campagnolo dice resterà lì però per tutta l'estate poi alla scoperta della città con il trenino City Explorer e vabbè il trenino che fa sempre festa quando passa è sempre con la campanella che suona ogni tanto fa sempre molto turismo allora grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia il telegiornale di Fano TV buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.